strada è l'acronimo di strumenti per l'accesso a dati e indicatori di salute ed è un catalogo che raccoglie i principali sistemi di accesso disponibili sul web per la consultazione, l'estrazione e l'utilizzo di dati indicatori utili alla costruzione di profili di salute e di equità a diversi livelli territoriali. Il focus dello strumento è incentrato sui livelli territoriali della regione Piemonte, totale regionale, ASL, distretti sanitari e comuni. Questo vuol dire che la fonte contenuta all'interno del catalogo deve contenere almeno questo livello territoriale. strada classifica i sistemi per area tematica e per area territoriale permettendo l'interrogazione dell'informazione in base a questi due criteri. La tabella sinottica sotto riportata consente a colpo d'occhio di capire quante fonti soddisfano le preferenze dell'utente. cliccando sul numero riportato nelle celle si accede all'elenco delle fonti che riportano dati ed indicatori sulla specifica tematica riferiti al livello territoriale di interesse. La ricerca guidata restituisce quindi i sistemi di accesso disponibili per l'area tematica o il territorio selezionato. Per ciascuna banca dati censita all'interno del catalogo è disponibile una scheda di descrizione che riporta il nome sintetico, la denominazione ufficiale, l'ente produttore, la fonte informativa, il livello territoriale, il periodo temporale, i principali indicatori disponibili o calcolabili, la modalità di accesso e l'area tematica di riferimento. Questa scheda illustrativa consente di accedere attraverso un link direttamente alla fonte informativa che produce i dati e gli indicatori di interesse. È possibile in alternativa una ricerca guidata attraverso una selezione da due menu a tendina per area tematica e area territoriale che restituisce l'elenco delle fonti che producono l'informazione di interesse per l'area tematica e i territori di interesse e ancora una scelta mirata selezionando direttamente la fonte di interesse da un elenco in ordine alfabetico. Attualmente le fonti informative censite nel catalogo sono 54. Le fonti informative contenute in strada rispondono ad alcuni criteri di qualità e completezza e devono essere di fonte certificata e di provata attendibilità, avere documentazione e metadati adeguati di corredo e essere naturalmente accessibili attraverso strumenti automatici di trattamento dell'informazione. Infine, la selezione degli strumenti di accesso è stata realizzata sulla base delle esperienze degli autori e di alcuni esperti nella progettazione e nell'utilizzo di sistemi informativi sanitari. La possibilità di segnalare nuove fonti informative da parte degli utenti arricchisce potenzialmente i contenuti del catalogo. Ma addentriamoci un po' più da vicino nello strumento provando a fare un esempio di selezione. Proviamo a selezionare l'area tematica Stili di vita e l'area territoriale Regione Piemonte. Vengono estratte 12 fonti e per ciascuna fonte è presente la scheda descrittiva già illustrata con le sue diverse voci di approfondimento. Andiamo alla scheda denominata con l'abbreviazione Multi. Si tratta dell'indagine multiscopo sulle famiglie relativa alla condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari realizzata dall'Istat. La scheda ci dice che sono presenti alcuni indicatori utili per la descrizione e quantificazione dei fattori di rischio individuale e dell'attività di prevenzione di sicuro interesse per la redazione di un profilo di salute per un piano regionale di prevenzione. Cliccando sul link si giunge al report descrittivo realizzato dal servizio di epidemiologia della SL Torino 3 e ai capitoli relativi ai fattori di rischio individuale dove vengono dati messaggi chiave sul fumo sul fumo di tabacco, l'attività fisica e il peso corporeo, riportando per ciascuna la prevalenza del fattore con confronti spazio-temporali e per genere e alcuni riferimenti bibliografici di approfondimento. Rispetto all'attenzione e alla prevenzione, vengono riportati altri messaggi chiave relativi al controllo di colesterolo, glicemia e pressione arteriosa e rispetto alla prevenzione dei tumori femminili, riportando nuovamente grafici per genere e per confronti spazio-temporali. e nuovamente bibliografia di approfondimento. Bene, questa è una panoramica dello strumento che, se riprodotto per tutte le regioni italiane da ciascuna di esse, può rappresentare uno degli strumenti di accompagnamento alla redazione di profili e report di salotte. Buon utilizzo a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!